Gedi che cos'è, vorrei sapere, se la guerra è di mestiere. Gedi cos'è, vorrei sapere, se domani devo ammazzare e poi saltare da un palo all'altro. E' una vertigine di cento metri. Gedi che cos'è, veloce in astronave, volare via nel cielo una stella cadente. Non posso seguire la strada della pace, oppure cerco l'umana specie. E restare come un animale a pensare all'amore, al mistero della magia latente. Di quell'orchidea che si può aprire nella mente. E perché no, a far mille cose, a fare l'amore. A fare anche un mestiere, come può essere il dottore. Oh, yeah.